Sono una serie di episodi gravi che hanno allarmato a suo tempo la cittadinanza, in particolare la comunità di Catanzaro e di Catanzaro Lido perché si sono susseguiti in un breve arco temporale numerosi attentati incendiari o bottigliette esplosive, esplosioni di colpi danno da fuoco. Noi siamo arrivati a scoprire gli autori di questi episodi che con questa attività intendevano sottoporre a controllo tutta una serie di attività economiche di Catanzaro Lido. Noi siamo contenti di poter affermare che dall'anno scorso ad oggi ci sono stati più arresti dal gennaio all'anno scorso, al maggio dell'anno scorso ad oggi più arresti che hanno consentito di fare luce su una serie di episodi della stessa natura, intimidazioni in danno di esercizi commerciali, aggressioni ad attività economiche.